Ha funzionato, sì, tutte le canzoni poi sono un po' una terapia perché quando poi scrivi ovviamente lasci andare le cose e quando diventano poi di tutti non sono più solo tue, quindi c'è sempre un alleggerimento. Noi sì abbiamo insomma vissuto questa crisi che abbiamo superato bene, devo dire, poi abbiamo scritto un disco oltre a questa canzone e alla fine ci si è resi conto che è una sorta anche di invito a lottare secondo noi, almeno questo è quello che abbiamo fatto noi, renderci conto di, ogni tanto bisogna fermarsi secondo me, rendersi conto di quello che si ha senza magari troppo andare oltre e quindi è un invito a lottare, a resistere per il sentimento.